buongiorno a tutti e benvenuti al nostro sesto appuntamento della rubrica genitorialità creativa in collaborazione con la psicologa federica cristaudo e la logopedista anna biavati oggi parliamo di lettura o meglio dei libri in generale argomento che ci avete tanto richiesto e che tanto affascina sia noi che voi cioè i protagonisti vi rimando intanto subito ad una lettura veloce ad un breve escursus nelle nostre varie pagine instagram dove troverete i nostri post dedicati e quindi la presentazione di questo argomento come sempre io vi darò il mio contributo da mamma in questo caso da mamma di un bimbo di poco più di due anni e quindi chiaramente di quella che è stata la nostra esperienza il nostro approccio e quello che è il significato che io do alla lettura per non dilungarmi troppo dividerò queste mie stories in cinque parti praticamente prendendo per spunto quelle che sono state le vostre domande quelle più gettonate in assoluto e le vostre curiosità prima parte cosa significa proporre la lettura ad un bambino significa dargli la possibilità di comprendere ancor meglio la realtà attraverso i nostri racconti ma soprattutto allo stesso tempo di ampliare i suoi orizzonti allenare la sua fantasia aiutarlo e insegnargli a sognare ma soprattutto allenare anche la sua pazienza e la suspense perché questo che un libro dona cancellare i limiti dare un volto e un nome a quelle che sono i suoi le sue paure i suoi timori e quindi allo stesso tempo smontare questi permettergli di riconoscersi e identificarsi anche per esempio con dei sentimenti con delle emozioni e dare anche un nome ed ovviamente dulcis in fundo quello che per antonomasia fa la lettura cioè donare cultura arricchire e ampliare il linguaggio di vocabolario ed eccoci qui giunti alla seconda parte quando iniziare la mia risposta inequivocabilmente è prima possibile iniziando chiaramente a proporre il libro sotto forma di gioco io per esempio ho iniziato intorno ai 6-7 mesi del mio bambino perché intorno a quell'età perché perché il bambino inizia già per esempio a star seduto da solo a riuscire a gattonare quindi raggiungere il suo obiettivo ad avere un minimo di manualità che gli consente di sfogliare ma chiaramente anche proprio avere la possibilità di toccare studiare la superficie degli oggetti tenerli in mano rendersi conto proprio manualmente e comunque se il libro a prescindere fa parte della casa fa parte della famiglia è uno strumento un utensile al pari di tutti gli altri non c'è neanche bisogno di proporlo il bambino fondamentalmente è curioso e quindi attratto da quello che lo circonda quindi alla stessa misura in cui tenterà di aprire un cassetto e capire cosa c'è dentro e tirar fuori tutto quanto se troverà un libro si approccerà a quello ed eccoci giunti alla terza parte come iniziare per gioco per intrattenimento per creare un momento di condivisione un qualcosa da fare insieme qualcosa che sia allo stesso tempo stimolante per la sua curiosità ma anche gioioso fate per esempio una vostra personale routine un momento soltanto per voi e per il vostro bambino per stare insieme con in mezzo a dividervi soltanto un libro per esempio io utilizzavo questo metodo durante il bagnetto qui arriviamo alla quarta domanda cosa proporre in realtà qui non c'è una risposta universale o univoca io quello che mi sento di consigliarvi è di scegliere chiaramente cosa proporre in base a quelle che sono le vostre personali idee educative magari se proprio ecco devo aggiungere qualcosa variate il più possibile cercate di proporre generi assolutamente diversi anche tra di loro e soprattutto qualcosa che possibilmente si concluda con una morale il vero trucco è quello di rendere attrattivo il libro al pari veramente di una macchinina nuova fiammante non ci deve essere alcuna differenza e quello che fa la differenza dovete essere voi nel proporlo abbiate paura necessariamente che magari i bimbi oggi non comprendono bene la trama che sia qualcosa di troppo difficile per loro o bene o male quello che è il significato sottile del libro e quindi la morale questo momento in modo sottile e subdolo mi viene da dire state allenando la loro mente e ampliando i loro orizzonti in modo tale da dargli la possibilità di vedere le cose in prospettive diverse ed eccoci arrivati all'ultima e probabilmente anche la più gettonata tra tutte le domande la regina delle domande come ho fatto io mi dispiace deludervi ma probabilmente sarò ripetitiva così come mi ripeterò in quello che appunto vi scrivo già nei vostri messaggi e in direct e così per come ho scritto anche nel mio post la risposta è l'esempio io in realtà infatti non ho fatto assolutamente nulla semplicemente come vi ho già detto prima se il libro fa parte della vostra casa della vostra quotidianità dei vostri gesti è normale che i bimbi viviteranno l'unica cosa che ho fatto tra virgolette forse semmai è stata quella di attrezzarmi e di comprare e tenere in casa dei libri che fossero prettamente per dei bimbi veramente in questo bisogna richiedere anche e di questo insomma me ne rendo conto la collaborazione anche di amici parenti di chiunque in realtà passi del tempo anche con il bambino e faccia regali tante volte capita che un parente un amico qualcuno mi dica cosa posso regalargli che cosa gli piace chiedete dei libri mio figlio nell'arco del primo anno di vita ha ricevuto un centinaio di libri spero di aver risposto in modo esaustivo a tutte le vostre domande di essere stata chiara di avervi dato uno stimolo piuttosto che uno spunto magari sul come agire e vi rimando assolutamente alle stories delle mie colleghe l'argomento in realtà è vastissimo quindi probabilmente per quello che mi riguarda perché come vi ho sempre raccontato i libri la lettura in genere sono qualcosa che appassiona anche tantissimo me soprattutto mi riguarda la visita sapete vi ho raccontato tante volte mie studi liceali vertono proprio su questo genere di discipline quindi psicologia pedagogia sociologia così come sono laureata in comunicazione e giornalismo e quindi diciamo che questo è proprio pane per i miei denti come sapete tra l'altro ho fatto appunto anche uno stage da ragazza in una casa editrice collaboro qui sui social con diverse case editrici soprattutto di libri per bambini è la rubrica che tengo di letture consigliate appunto per i bimbi non vuole essere assolutamente istruttiva in nessun modo ma semplicemente uno stimolo ed uno spunto mi piace tanto è seguitissima davvero mi fate sempre tantissime domande commentate tantissimo e quindi non posso ovviamente che esserne contenta anzi mi riprometto di essere maggiormente attiva lungi da me chiaramente il voler insegnare niente a nessuno né come si fa il genitore né tantomeno pilotare per così dire i vostri acquisti semplicemente sono una mamma a cui piace condividere nella condivisione chiaramente rientrano anche tutte quelle che sono le esperienze positive che noi come famiglia viviamo nel nostro quotidiano quindi vi ringrazio sempre per il vostro affetto vi mando un bacio e alla prossima avventura